buona giornata amici lieto di ritrovarci staremo insieme per qualche tempo questa volta per la rassegna stampa di fano tv come sempre leggeremo i giornali il resto del carlino e il corriere adriatico ma prima passiamo come al solito alla commemorazione del giorno e alle temperature al tempo oggi è la commemorazione dei defunti ieri tutti santi oggi invece si così si ricordano tutti i parenti tutti gli amici che sono defunti e passiamo alle condizioni del tempo vediamo che la situazione sta migliorando bel tempo sulle marche con nubi in transito alternate a squarci e assolati forti venti però sud occidentali le massime si aggirano dai 19 ai 21 gradi i venti spirano sulle coste con media tensione da ost sud ovest così come sull'interno ma le temperature sono in calo ed ora vediamo le prime pagine dei giornali a partire dal resto del carlino nuova questura soltanto parole una vicenda che ormai si trascina da tanto tempo c'era un crono programma però è rimasto lettera morta nessuna traccia del progetto figuriamoci dell'appalto e poi ancora sulla questione della sanità abbiamo un ricovero per covid al torrette di ancona e una dichiarazione dell'assessore regionale saltamartini vaccinazioni ferme adesso tocca alla scuola per quanto riguarda la politica una dichiarazione di alessia morani l'unità pesarese fondamentale per il pd delle marche e poi una vicenda piuttosto così bella la shoah la storia della famiglia saranno saranno diventerà un film ed è una collaborazione con la provincia per quanto riguarda lo sport la vl i tifosi coach non siamo ostili ma siamo esausti per quanto riguarda i risultati e la visse ora le big dovranno incontrare la squadra pesarese a partire a domenica prossima con la prima in classifica il fano va avanti con joffre il posto delenatore era in bilico ma ora viene confermato per quanto riguarda invece il corriere adriatico vediamo che la cronaca è posta in primo piano lite d'amore poi devasta l'arpam la mattinata brava di un 23enne che per sfogare la rabbia danneggia la sede di via barsanti e poi ancora il beato sante sette di hollywood e richiama anche la notizia pubblicata sulla prima pagina del carlino pesaro tributo e max e ago la giunta sia i campi dal del san decenzio a urbino la movida gambini tira dritto tutti i locali chiusi alle due e poi da pesaro a civita nova svolta monopattino ma serve l'ordinanza stazione il piano sosta porta in dote 400 stalli e veniamo subito le pagine del corriere adriatico e nell'interno per quanto riguarda la pagina di fano eccola qua e dunque aspettate un attimo che la trovo eccola qua e si parte con la cronaca la furia moldava rimane in ospedale chiesta anche la perizia psichiatrica è un ritorno per quanto riguarda i fatti avvenuti a fenile l'altro giorno è stato ieri convalidato l'arresto per il 25enne che ha aggredito quattro persone a fenile spinto dagli odori che sentiva questa è la causa probabilmente è una causa di origine psichiatrica e mentre spargeva terrore in via bartali a fenile di fano era come comandato dagli odori e questo gli scatenava una sensazione di ribellione di violenza di aggressione e odori che percepiva nelle persone contro le quali si è scagliato nelle abitazioni in cui si è introdotto una ricostruzione che ha lasciato stupiti gli stessi inquirenti i quali però al termine dell'udienza il giudice francesco messina ha convalidato l'arresto accogliendo la richiesta del pubblico ministero silvia cecchi così è stato disposto la custodia del giovane in un luogo di cura ovviamente non poteva essere diversamente un'altra notizia di cronaca bici contro mano lui aveva bevuto è risultato positivo all'etilometro con un tasso superiore a 2 mg litro il moldavo di 34 anni che ieri ha evitato per puro destino di travolgere due minorenni in bicicletta tutto è venuto alle 15 e 30 in via antinori e poi ancora un l'epilogo della disgrazia che si è verificata a san lazzaro domenica precipitato dal sesto piano stamattina l'addio a buratti alle 10 e 30 la cerimonia per il 74enne morto domenica a san lazzo ugo buratti deceduto per i terribili traumi riportati a causa della caduta da un'altezza di sei piani l'uomo si trovava sul balcone del suo appartamento all'ultimo piano di un palazzo in via del ponte avrebbe dovuto effettuare pochi lavori di manutenzione al condizionatore d'aria sembra infatti che volesse coprirlo con una protezione per il periodo invernale purtroppo per qualche ragione ha perso l'equilibrio ed è caduto purtroppo in maniera fatale e si parla anche di cimiteri oggi sui giornali perché oggi la commemorazione come abbiamo detto dei difunti cimiteri comunali da tutto esaurito loculi in coabitazione o a 2500 euro disagi a rosciano e bellocchi e all'olivo questi due cimiteri importanti si stanno intasando ormai non ci sono più loculi disponibili e quindi le concessioni trentennali ormai stanno per scadere forse è questa la ragione per cui l'amministrazione comunale non costruisce nuovi loculi il prossimo anno il cimitero dell'olivo compie 30 anni scadono molte concessioni e quindi i loculi che ora sono occupati diventeranno disponibili però nel frattempo ci sono disarci halloween nessun scherzetto emarginata l'illegalità e oggi ci sono attestazioni di soddisfazione per la corretta conduzione di halloween che si è svolta appunto il 31 di ottobre la grande festa di santosso questa volta si è svolta senza incidenti ma non ci sono stati incidenti nemmeno negli altri quartieri della città affollata anche piazza 20 settembre a sant'orso era puntata un po la lente di ingrandimento per quanto è accaduto l'anno scorso quest'anno grazie a un poderoso controllo della polizia locale dei carabinieri del commissariato non si è verificato alcun incidente quindi veramente una giornata trascorsa in letizia la grande festa di sant'orso ha coinvolto la comunità ci sono dichiarazioni degli assessori sui giornali questa mattina l'assessore brunoli dice abbiamo dimostrato che si può cambiare anche l'assessore cucchiarini ha dimostrato la quel quanto fatto da parte delle forze della polizia locale i vigili urbani sempre presenti a fossombrone polemica sterile sul presidente il vice sindaco chiarabilli replica le minoranze anche sulla questione deleghe allargate ai consiglieri ebbene l'istituzione della presidenza del consiglio comunale a fossombrone le deleghe allargate hanno costituito un po le vere novità e le vere novità hanno così sollevato delle polemiche da parte delle minoranze non si tratta di una poltrona che deve rimpiazzare altri incarichi ma coordinerà i lavori del consiglio ha dichiarato chiarabilli e torniamo a fano per un articolo di fondo sulla pagina della val metauro del corriere adriatico ciclabili su via roma fanella e pale e pale e paleotta ok ai progetti è stato provato l'esecutivo che creerà un chilometro di piste per 215 mila euro di spesa insomma si va avanti e a sprone battuto per quanto riguarda le piste ciclabili a fano però insomma ci sono sempre delle polemiche quando si cambia qualcosa a marotta troppi mezzi parcheggiati litoranea in divieto di sosta l'amministrazione comunale lo estenderà per 30 metri lungo via indipendenza troppe auto e furgoni parcheggiati di fianco la statale nel tratto tra viale dell'indipendenza e via degli astronauti l'amministrazione comunale interviene con una ordinanza per incrementare la segnaletica a istituire divieti di sosta permanenti e poi a san lorenzo in campo invece abbiamo un restyling del centro storico sono partiti i lavori in via vittorio emanuele saranno rifatti marciapiede i sottoservizi con marche multiservizio e veniamo ora alla pagina di pesaro torniamo indietro sul giornale e vediamo come su pesaro si parla del piano sosta un piano sosta che occupa due pagine sul corriere adriatico con una sequenza fotografica che illustra la situazione di importanti aree destinate a parcheggio abbiamo quella di via dell'acquedotto abbiamo quella di porta cappuccini ancora quella delle bastone degli orti giulli e infine quella di san decenzio l'assessore belloni dice stiamo ultimando la sistemazione dell'area retrostante ma occorre anche risolvere il nodo di porta cappuccina il contenzioso tra comune e privati proprietari della zona anche qui molti cambiamenti per quanto riguarda i parcheggi che costituiscono sempre un problema attuale emergente in tutti i comuni zona cappuccini la guerra al brutto e anche sicurezza la riqualificazione del sottopasso non solo è un'operazione d'arredo urbano ma questo verrà ampliato e reso più agevole per il passaggio di biciclette e pedoni e veniamo ora alla cronaca litiga con la ragazza per sbollire la rabbia danneggia con un estintore la sede arpa si tratta di un giovane che era in preda ai fumi dell'alcol che si è poi rifugiato sul tetto prima di essere bloccato e arrestato dalla polizia è la storia di una mattinata brava questa una mattinata brava e convulsa nella sede dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle marche in via bersanti qualcuno aveva preso l'estintore di servizio l'aveva così messo in azione sembrava che fosse un incendio in realtà la polvere era quella del dell'estintore e l'aveva scaricato tutto sugli uffici insomma un atto di vandalismo vero e proprio la polvere ha determinato quindi l'odore acre di fumo che si era propagato tra i locali quindi l'intervento poi delle forze dell'ordine guardia medica i primi accorpamenti e appello ai giovani per i turni scoperti a montecchio e gabice i territori sono più in difficoltà chiesta la disponibilità anche dei professionisti di base un articolo che riguarda un po la carenza di tutto il personale medico e quello dei pronto soccorsi dei medici di base dei pediatri in modo particolare una carenza che deve essere deve essere così coperta deve essere in immediata in quanto specialmente nei centri periferici è una carenza di carattere non solo medico ma anche sociale veramente importante regione ospedali come fotocopie è una dichiarazione del consigliere regionale biancani marche nord deve restare riferimento per tutto il territorio una difesa dunque dell'azienda e veniamo e veniamo al beato sante con questa iniziativa di tipo hollywoodiano hollywood sbarca al beato sante la storia dei sarano diventa un film il produttore arman julian vuole girare un lungometraggio sulla famiglia scampata dalla shoah ebbene si tratta del toccante toccante libro siamo qui siamo vivi il diario inedito di alfredo sarano e della famiglia scampata alla shoah durante la seconda guerra mondiale scritto dal giornalista pesarese roberto mazzoli una vicenda toccante una vicenda esemplare che è accaduta a al beato sante dove la famiglia ha trovato rifugio contro la follia nazista e giriamo ancora pagina sul corriere adriatico per giungere alla valle foglia museo di arte contemporanea nella torre di palazzo mamiani è una proposta questa dell'associazione etra al comune le prime opere saranno quelle della galleria di franca mancini a urbino gambini tira dritto fino alle due coprifuoco esteso in tutto il comune il sindaco replica al partito democratico e a viva urbino dice che l'unica soluzione mi scrivono albergatori e residenti insomma per così tenere sotto controllo l'ordine pubblico non serve altro che l'ordinanza secondo il sindaco gambini oggi comunque c'è una riunione della commissione comune sistema università con erdis e gli studenti per cercare di placare un po le acque discoteca europa con troppa gente scatta la multa una sanzione da 400 euro per avere superato il 50 per cento della capienza consentita è accaduto a mercatino conca e veniamo ora al resto del carlino abbiamo già letto la prima pagina veniamo ora cosa si cosa si evidenzia nella pagina di fano anche qui si apre con la cronaca per quanto riguarda i fatti di fenile il titolo è victor così si chiama il nell'energumeno che è stato interprete di violenza victor come un lupo seguivo gli odori interrogato all'ex cameriere emergono inquietanti retroscena delle aggressioni a fenile puntava le pellicce le donne e mordeva il 25enne moldavo resta al santa croce in attesa dell'incidente probatorio la scelta da fare raptus o alterazioni psichiatriche permanenti servirà una perizia abbiamo letto prima un po l'evoluzione di questo fatto veramente inquietante e poi maxi bollette ma allora chi paga un interrogativo che il resto del carlino questa mattina evidenzia in questo articolo di fondo ed ha come un possibile rimedio la telelettura si parla di perdite occulte quelle perdite che vengono all'insaputa dell'utente dell'acquedotto cittadino che però si trasformano in bollette molto molto salate quando si tratta di pagare appunto l'acqua e a questo punto con la telelettura uno potrebbe accorgersi molto prima rispetto alla scoperta in fondo di quanto accaduto con danni economici piuttosto consistenti alouen tranquillo il riscatto di sant'orso una festa di solo divertimento cancella i vandalismi partiti dal quartiere l'anno scorso c'è anche una dichiarazione dell'assessore tinti decisiva la prevenzione attraverso i giovani e la sana allegria abbiamo voltato pagina rispetto ai terribili fatti del 2020 ha dichiarato la brunori facendo emergere il grande cuore della nostra città la cucchiarini aggiunge questo risultato grazie ai controlli capillari delle forze dell'ordine e poi una bella pagina una bella pagina dedicata a un personaggio fanese si tratta del fotografo paolo del bianco che non solo è un fotografo ma anche un grande collezionista in questo caso lo vediamo con i suoi aeroplani giocattolo di latta una collezionista veramente una collezione veramente importante pensate che il più antico risale il più vecchio diciamo meglio risale al 1934 è uno idrovolante lato eco air a moter ispano suizza 900 cv insomma un un aeroplano un velivolo veramente d'epoca particolarmente a tratto del bianco dagli aeroplani di linea e ne ha veramente tanti anche da grandi si può giocare ci si può divertire con queste collezioni ancora covid piccoli rialzi a mondolfo e a san costanzo positivi saliti a 22 e 14 virus free quattro centri fratrerosa mondavio montepozio terre roveresche qui covid non c'è il confronto con aprile scorso è confortante a monte schiantello ogni atto sulla discarica sarà condiviso e poi ancora a san lorenzo in campo bonus massimo di 2500 euro per il restauro delle facciate le domande da presentare entro il 23 di dicembre previsti anche altri scontri ad esempio sul limo per quanto riguarda invece monte schiantello ogni atto sulla discarica sarà condiviso questa è una è una notizia che riguarda in modo particolare san costanzo non solo fanno interessato la discarica di monte chiastello che sta per diventare tra l'altro la discarica di tutta la provincia ma anche san costanzo che l'ha lì a due passi approvata alla unanimità dal comune la mozione della minoranza questa volta anche la maggioranza convenuto quanto scritto dall'opposizione così eviteremo sorprese negative per la comunità quindi ogni risoluzione che riguarda la discarica san costanzo sarà appresa alla unanimità insomma dovranno essere d'accordo sia la sia la posizione che la maggioranza a urbino trasporti pronti alla sfida dell'elettrico audizione nel consiglio comunale per il presidente di ami lara ottaviani stiamo rientrando dall'emergenza del personale con le gare avviate dall'azienda arrivano 40 nuovi autobus tra ibridi metano e gasolio quindi un rafforzamento a quello che è il parco mezzi dell'ami se lo storico non indaga vincono le notizie false un titolo che riguarda l'ex rettore dell'università di urbino stefano pivato che ha scritto un saggio che ora in libreria sulla vicenda di bartali e il salvataggio degli ebrei una vicenda un po controversa in questi ultimi tempi si dice che che bartali avesse salvato con i suoi viaggi da roma ad assisi in bicicletta tanti tanti ebrei non sia esattamente vera insomma c'è chi l'ha messa in dubbio e stefano pivato invece ha fatto una ricerca storica veramente puntuale ha cercato di ristabilire la verità nessuno dunque meglio di uno storico di professione può comprendere il valore del tempo quale apportatore di verità perché non sempre il suo trascorrere dice l'articolista deposita polvere spessore di ombre sui fatti ma consente invece che la tentazione della vanità delle ideologie della politica dell'opportunismo sbiadisca a favore dell'emergere della sostanza e delle cose sono parole su cui ci si può riflettere tra i tartufi ora ci riempiamo idealmente la bocca con dei cibi prelibati tra i tartufi spunta l'ottimismo di iacchetti il popolare attore comico è stato presente alla fiera di acqualagna è stato accolto con simpatia dal pubblico è salito sul palco per un divertente spettacolo il conduttore ha presentato il suo non è un libro il ricavato va alla croce rossa prevista la consegna della ruscella d'oro a popolarissimi chef e star della tv il 6 e 7 novembre prossimo festa per il secolo di vita della signora emilia rossetti ieri auguri e visita da parte del sindaco e del parroco a monte felcino e siamo ormai in conclusione diamo un'occhiata anche alle notizie dello sport vediamo cosa ci dicono cosa ci dicono i giornali per quanto riguarda il calcio la vis ha i numeri giusti per sfidare le big prima la reggiana e poi il modena la partita di gorsetto ha confermato la qualità dei biancorossi nonostante la beffa finale seconda rete di un centrocampista quindi non solo vanno avanti gli attaccanti ma anche i centrocampisti vanno a gol ottava su azione sulle 14 complessive fin qui realizzate quindi insomma la vis va abbastanza bene l'alma invece tentenna l'alma pur con una posizione alquanto precaria ha confermato il suo allenatore confermato gioffre ora si cercano rinforzi dopo un giorno di riflessione il club ha deciso di andare avanti col tecnico entro venerdì c'è tempo per qualche movimento di mercato per quanto riguarda invece la vl abbiamo una dichiarazione dei tifosi coach non siamo ostili soltanto esausti i tifosi della vl rispondono a banchi dopo l'appello di domenica sera seguito ai fischi in cui ha chiesto sostegno per i giocatori lo abbiamo per la delfino hanno detto ma anche per camara se uno da tutto secondo i suoi mezzi noi lo capiamo e vediamo invece che cosa evidenzia il corriere adriatico per quanto riguarda lo sport la visse sulla strada della salvezza abbiamo una bella foto del tecnico marco banchini il pareggio di grosseto può essere anche una beffa per come è maturato ma i biancorossi sono arrivati al settimo risultato positivo consecutivo il faro invece decide di non cambiare gioffre avrà la sua ultima chance la società dopo una profonda riflessione rinnova la fiducia al contestatissimo tecnico granata ma l'allenatore siciliano dovrà assolutamente cogliere la vittoria domenica con il monte giorgio altrimenti sarà una debacle ormai quasi definitiva speriamo che così non sia ebbene questa era l'ultima notizia massimo foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani mentre l'appuntamento con l'informazione è stasera alle 20 e 30 con il notiziario di fano tv buona giornata grazie a tutti